Vuoi vedere che ci compriamo qui sotto? Speriamo. Guarda un po' qui e poi dimmi se questa vetrina non è ben riuscita. Com'è bella. Andiamo, Bruno ha freddo. Io e la voretta, venite a vedere. La voretta, Bruno, venite a vedere. Ho lavorato per tre giorni. È una piccola cosa, è un'idea. E per una vetrina tutto sta nell'idea e nel colore. Guarda un po' il rosa di quel giorno. Buonasera, signorino Luciccio. Buonasera, che tal? Quanto mi piace. Buon'è, mio amico. E c'è qualche cosa? C'è dell'arte. Buonasera, che tal? Buonasera, che tal? Buonasera, che tal? Grazie a tutti.